Siamo a venerdì e come ogni venerdì torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare da inserire nel mio portafoglio personale. Le biotecnologie sono un argomento complesso ma secondo me molto affascinante. La biotecnologia indica qualsiasi applicazione tecnologica che utilizza sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati per realizzare o modificare prodotti o processi per un uso ben specifico. Al di là della terminologia ufficiale è un segmento secondo me in forte espansione. Oggi ti voglio parlare di 3TF che seguono proprio questo ambito ma ne parliamo solo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio, io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi si vuole in un territorio particolarmente curioso. Le biotecnologie rappresentano un metodo in più a disposizione principalmente nell'agricoltura in molti casi perché esse rendono possibile ad esempio l'inserimento delle piante in specifici geni anche provenienti da una specie assai diversa la cui funziona in nota per trasmettere informazioni nelle generazioni successive. Se ci si pensa per cui il miglioramento genetico non è altro che un sistema per ottimizzare la selezione naturale e accrescere il rendimento e la resistenza magari ad alcune malattie. Le biotecnologie non sono un'invenzione prettamente regata ai nostri tempi bensì hanno origini a un impiego già molti secoli fa per esempio se pensiamo alla fermentazione del vino o della birra. Prima di andare al pc a presentare questi tre tf naturalmente ricordo che a questi non sono consigli a investire in nessuno di questi strumenti né tantomeno un invito ad investire a prescindere io non sono un consulente finanziario ma porto questi contenuti a scopo prettamente divulgativo ed informativo. Come sempre fate sempre le vostre valutazioni inoltre se vuoi sostenermi sul canale anche con un caffè al mese puoi abbonarti qui su youtube o sostenermi con patria non se credi nel mio progetto. Se puoi vuoi anche sostenere con me una consulenza per l'educazione finanziaria trovi il link qui sotto in descrizione. Bene andiamo a pc a parlare di questi etf e poi torniamo qui per le ultime considerazioni. Ed eccoci sul primo dei tre etf si tratta dell'iShares Nasdaq US Biotechnology. L'indice questo va a replicare le società quotate sul nasdaq che sono impegnate principalmente nella ricerca biomedica per sviluppare nuove terapie e cure per le malattie dell'uomo. Si tratta di un particolare etf che ha una dimensione del fondo di 350 milioni di euro per cui una dimensione media, una replica fisica con campionamento ottimizzato e un ter dello 0,35% con una politica di dividendi che è ad accumulazione. Andiamo a vedere quello che è la classificazione della diversificazione dei paesi con gli Stati Uniti che occupano quasi l'81%, Irlanda quasi un 4%, Regno Unito quasi un 4% anche lui, Germania un 85% e il resto delle porzioni sono un nuovo 47% in cui comprendono anche Francia, Cina e Paesi Bassi. Per quanto riguarda invece le aziende sono 369 partecipazioni però è particolarmente sbilanciato perché le prime 10 vanno a occupare quasi il 50% del fondo, anzi poco più del 50%. Aziende tutte conosciute come Giled Sciences, Amgen, Regeneron Pharmaceutical, Moderna, Vertex Pharmaceutical, Illumina, AstraZeneca, Biogen, Cigen e Horizon Therapeutics. Per cui aziende che sono particolarmente conosciute, una particolare tipologia di disposizione molto sbilanciata sugli Stati Uniti d'America e molto sbilanciata sulle prime 10 posizioni per cui ovviamente bisogna tenere in considerazione questi aspetti nel caso si vada a scegliere questo etf per andare ad investire appunto in questo settore che sono le biotecnologie. È un fondo diciamo che da quando è stato quotato poco prima della fine del 2017 ha avuto delle prestazioni positive però ovviamente non eccezionali perché praticamente nell'arco degli ultimi quattro anni è andato a fornire un 17,5% che avendo investito invece nel mercato globale sicuramente avrebbe reso molto di più qualcos'altro che non questo etf però ovviamente come dicevamo all'inizio prima si tratta di uno specifico investimento che guarda molto al futuro. Secondo etf è First Trust Nisee Arca Biotechnology e questo etf va a replicare le società Nisee Arca Biotechnology che sono operanti nell'industria della biotecnologia e che sono quotate non solo al New York Stocks Exchange ma anche al Nasdaq. Si tratta di un fondo molto piccolo 10 milioni di euro con una replicazione fisica totale perde lo 0,60% anche qui politica di distribuzione ad accumulazione. Un etf abbastanza nuovo perché è stato lanciato il 27 maggio del 2020. Andiamo a vedere le posizioni, qui sono solo 30 e le prime 10 vanno a occupare il 38,5%. Aziende che in questo caso non sono tutte presenti come nel primo etf ma sono in alcuni casi abbastanza nuove. Qui l'esposizione agli Stati Uniti è molto più ampia, un 86 quasi e mezzo per cento, poi abbiamo 381% la Germania, 355% Irlanda, 3,5% quasi Paesi Bassi e infine il 3% per quanto riguarda la Spagna. Tra i nomi più famosi sicuramente andiamo a riconoscere BioNTech e Vertex Pharmaceutical, mentre le altre sono un po' meno conosciute, bisognerebbe andare ad approfondirle una per una per capire effettivamente cosa vanno a fare, anche perché questo etf avendo solo 30 partecipazioni ovviamente come si può ben intendere è abbastanza sbilanciato. Per quanto riguarda i rendimenti è stato quotato come dicevamo prima verso il 2020 e da quando è stato appunto quotato a fine maggio 2020 ha avuto dei rendimenti negativi, siamo intorno al 16, meno 16%, come però abbiamo detto anche per il primo etf si tratta di una particolare tipologia di investimento che guarda molto al futuro, al lunghissimo periodo, per cui guardare i rendimenti che questi etf hanno avuto negli ultimi anni secondo me è poco indicativo e più indicativo andare a studiare le singole aziende per capire più che altro quali sono le prospettive per il loro futuro, dove vanno a investire, come vanno a investire e per cui capire se possono essere aziende che al di là dell'etf possono andare a fornire dei rendimenti positivi. L'ultimo è il tf, il più piccolo dell'otto perché siamo andati proprio in discesa, GlobalX è il fornitore e il tf si chiama GlobalX Genomics and Biotechnology e va ad replicare l'indice Solative Genomics che replica appunto aziende attive nel campo della genomica e delle biotecnologie. Si tratta di un fondo piccolissimo, 4 milioni di euro di dimensioni, una replicazione fisica totale, un TER dello 0,50%, politica di distribuzione ad accumulazione ed è ancora più nuovo 2 novembre 2021, praticamente è ancora incartato questo etf. Essendo così nuovo non troviamo nessuna tipologia di informazioni sulla diversificazione settoriale per le varie aziende e neanche sulla diversificazione di tipo geografico. Lo andiamo a vedere sul sito dell'emittente a breve, l'unica cosa che volevo andare a fare vedere è da quando è stato quotato questo etf appunto a fine 2021, 5 novembre 2021, ha reso nell'alto di questi mesi un meno 43%, un po' come è stato seguito il mercato degli altri due etf. Si vale lo stesso discorso fatto per i PM2 ovviamente per cui è inutile che mi ripeto. Vogliamo vedere sul sito dell'emittente quali sono le hoardings e le caratteristiche. Abbiamo in questo momento le prime 10 aziende che sono all'interno di questo etf delle quali a parte BioNTech io non so assolutamente chi siano le altre. Si tratta sicuramente di aziende che sono nel campo della genomica e della biotecnologia che magari sono famose nel loro settore ma che io personalmente non conosco. E qui cliccando appunto sul sito Mostratutti possiamo andare a vedere che comunque ci sono alcune altre che conosciamo come la Vertex, Moderna, Legend Biox, Illumina. Per quanto riguarda la diversificazione geografica questo è quello meno diversificato dal punto di vista appunto dell'esposizione agli Stati Uniti, sono l'80% praticamente come gli altri due è tutto, però abbiamo anche un 7,5% nel Paesi Bassi, 4,8% Cina, 3,8% Svizzera, Germania 1,7%, Giappone 1,7% e poi una piccola porzione su Francia e Singapore. Come numero di posizioni ne abbiamo 40, diciamo che si sta a metà strada fra gli altri due, il secondo ne aveva 30, questo ne è un po' di più, però comunque sono tutte aziende molto ma molto più settoriali che vanno studiate ancora di più rispetto ai primi due ETF che abbiamo visto finora perché la genomica secondo me è ancora più settorializzata rispetto alle biotecnologie ed è un qualcosa che bisogna veramente capire a fondo per comprendere dove queste aziende possono andare a fare profitto e dove no e dove sono i rischi correlati a questa tipologia di settore. Comunque come dicevo prima il ETF è praticamente nuovissimo, ancora incartato per cui anche in questo caso bisognerebbe andare a comprendere benissimo qual è la strategia dei Global X per quanto riguarda il seguire questo particolare indice. Ebbene ritorniamo a me stesso. Dammi una tua opinione qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi questi ETF uno tutti e se li seguivi magari avendoli già in watch list o se ne hai uno già in portafoglio. Come li consideri? Rischiosi oppure un'opportunità da non perdere? Però vivamente come sempre di avere un tuo feedback qui sotto, di poter avere da parte tua un contributo per far crescere me ma anche tutta la community. Cerchiamo come sempre di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non debba rischiare di perderti nessun video successivo. Oggi è venerdì come sempre l'ultimo video della settimana e per cui noi torniamo lunedì prossimo con Buona Notte ai Mercati per iniziare una nuovissima settimana editoriale. Non mi resta solo che augurarti un felice fine settimana. Ciao!